Alessia Lautone, tra poco Giovanni noi parleremo di un altro libro, il libro dei fatti, 27 edizioni, pensate 1991-2017, quindi sicuramente nelle sue edizioni questo libro dei fatti avrà parlato anche della triste storia che vede protagonista il giudice Falcone, Giovanni Falcone. Dico bene, direttore o direttrice dell'ADN Cronos, Alessia Lautone? Beh sì certo, ci siamo occupati moltissimo del giudice Falcone, è stato anche ospite all'ADN Cronos per un convegno, ci fu un passaggio di un fogliettino e lui ne fu particolarmente sconvolto quando era da noi, quindi ci siamo occupati tantissimo del giudice Falcone. Rispetto al libro di Bianconi volevo dire una cosa, che è vero che lui l'ha scritto da giornalista, ma chi lo legge lo legge veramente da lettore puro, perché è un libro che ho trovato molto avvincente, è un libro che ti lascia incollato, che devi finire immediatamente, quindi è vero che è un libro scritto da un giornalista, è vero su una vicenda assolutamente reale e che i giovani devono conoscere e che comunque tutti dobbiamo continuare a ricordare, ma è un libro che è anche un po' un romanzo, devo dire. Il libro dei fatti, e quanti fatti, che fatti, il libro dei fatti, 27 edizioni, 1991-2017, Alessia Lautone, direttore o direttrice dell'ADN Cronos, che è un'agenzia molto accreditata nel nostro paese, il libro dei fatti, ritorno, ormai è un appuntamento. Da 27 anni è un appuntamento fisso, da quando il nostro editore trovò il bordalmanac americano alla Casa Bianca, tornò in Italia, Pippo Marra decise di pubblicarlo, da allora è un successo continuo, ogni anno riusciamo in questo modo a contrastare anche le fake news, perché sicuramente le notizie che sono sul libro dei fatti sono notizie certificate, questo è certo e sicuro. L'idea di chi è stata del libro dei fatti? L'idea appunto è stata di Pippo Marra, l'editore dell'ADN Cronos, vide il bordalmanac americano nello studio vale della Casa Bianca, tornò in Italia, lo prese in mano, lo sfogliò, tornò in Italia, ed ebbe l'intuizione da lì di fare la versione italiana del bordalmanac, e quindi nacque il libro dei fatti. Quindi è lui, e c'è sempre lui, da 27 anni, che continua a decidere come deve essere pubblicato. E davvero il libro dei fatti è alla portata di tutti, come si sollire, dico bene, direttore o direttrice, lei come preferisce, direttore o direttrice? È assolutamente uguale, anche Alessia va benissimo, non è un problema, comunque è uguale, non è questo il punto, diciamo. Sì, è un libro per tutti, è un libro che serve per la scuola, per lo studio, lo usano i ragazzi, lo usano per prepararsi ai concorsi, si usa un po' per tutti ed è una spinta alla lettura, perché fino alla fine di ottobre, cioè, questo viene regalato negli autogrill se uno compra un altro libro, per cui, insomma, è anche una spinta a leggere il libro dei fatti. E sì, lo usano veramente in tanti, i miei figli ce l'hanno per l'università, sfogliano, ci sono le dati, ci sono notizie curiose, quest'anno c'è la novità sulla meteorologia, ci sono le notizie curiose sui presidenti americani dopo l'elezione di Trump, il più giovane, il più vecchio, lo Stato che ne ha sfornati di più di presidenti, quindi, insomma, e poi c'è tutta la cronologia, tutti gli eventi e tutti i fatti dell'anno precedente. Allora, Flavia, Flavia Capone. Abbiamo detto dell'importanza di questo libro nel contrastare le fake news e mi ricordo che è una cosa, insomma, di cui abbiamo parlato anche nella scorsa edizione e mi piace molto l'interesse per l'ambiente che c'è in questo libro, perché ci stiamo rendendo conto proprio con i fatti che purtroppo molto spesso catastrofici ci circondano e accadono anche al nostro Paese, che l'ambiente è importante, è diventato molto importante, rendersi conto del tempo anche climatico ci fa capire che ci sono delle cose, dei cambiamenti in atto che andrebbero in parte forse anche contrastati e, insomma, anche rallentati, cambiando ovviamente i nostri comportamenti. Questa parte mi è piaciuta molto. Allora, Margherita, leggiamo un fatto di questo libro dei fatti, poi sentiremo ovviamente ancora la dottoressa Lautone. New York, AIDS, allarme UNICEF, il numero di decessi per AIDS tra gli adolescenti triplicato negli ultimi 15 anni. Ogni due minuti un adolescente, con molta probabilità una ragazza, contrae l'HIV. Questo è l'allarme lanciato dall'UNICEF, che sottolinea l'importanza di effettuare ulteriori progressi, perché in caso contrario i nuovi casi di contagio per questa fascia di età aumenterebbero del 60%. Il fatto più fatto, secondo lei, Alessia, che viene raccontato tra i tanti fatti in questo libro, qual è, se c'è? Beh, c'è dall'elezione di Trump ai terremoti, purtroppo, sono tantissimi. La notizia che ha letto Margherita anche è forse una notizia che è passata più sotto silenzio, nel senso che se ne è parlato nei giorni in cui è stata data e diffusa dall'UNICEF, ma poi forse ce la siamo scordati. Invece anche l'AIDS è un fatto che continua a preoccupare enormemente e, come abbiamo visto, colpisce soprattutto i nostri giovani. Quindi comunque è una notizia di cui continuare a parlare. E il libro dei fatti serve un po' anche a questo, no? A fissare delle notizie, perché molto spesso le rincorriamo e poi non ricordiamo nemmeno più che cosa è successo. Ecco, lo speciale che ricordavamo prima, quello sulla sostenibilità, sull'ambiente, è poi seguito da uno speciale sulla robotica, ci tenevo a dirlo, e uno speciale anche sui terremoti, appunto per non dimenticare e per continuare ad aiutare le popolazioni che stanno soffrendo. Bari, Napoli, Milano. Vale a dire Lino Patruno, Marco De Marco e Francesco Rigatelli. Il libro dei fatti. Lino Patruno. Ma è un libro prezioso per le ragioni che ha detto la direttrice Alessia, ma anche per qualche altra ragione. Tanto per cominciare è un conforto per chi è ancora abituato alla antica carta e quindi poterlo toccare come si faceva un tempo e come pare che prima o poi non si potrà fare più. È prezioso perché certifica le notizie, nel senso che nell'era di internet può essere considerato una sorta di oggetto giurassico sorpassato, però su internet non c'è la certificazione delle notizie, nel senso che chiunque può mettere quello che vuole e soprattutto non c'è una cosa fondamentale che poi esalta e giustifica in una certa misura il pensiero del giornalista da una gerarchia alle notizie, nel senso da un ordine e da un ordine anche di importanza che su internet invece non c'è. Allora tutto questo lo fa un libro che si può ottenere, non dico tranquillamente sul comodino, ma insomma che può essere usato in qualsiasi momento per qualsiasi necessità, appunto perché è un riepilogo di tutto l'anno e perché, come ha detto anche la stessa direttrice, le cose poi si dimenticano. E cioè, francamente devo dire che quando sono andato a rileggerlo, alcune cose che erano avvenute durante l'anno le avevo dimenticate, tranne le cose principali come il terrorismo, Erdogan, Brexit, la morte di Castro e tutti gli altri avvenimenti che sono brillantemente riportati sul libro. Marco De Marco, Napoli, Marco. Questo è il classico libro che si sfoglia, che si legge e che migliora la vita, per citare qualcuno, ma lo dico sul serio. Il libro riporta le notizie alla sua essenzialità e in questo senso introduce un tema, secondo me, nuovo per tutti noi che ci occupiamo di informazione. Cioè, non tanto di quale informazione diamo, ma di quanta informazione diamo. Il caso ultimo del terremoto di Casamiccio, a proposito di terremoti, per esempio, solleva proprio questa questione. Forse un di più, un eccesso di informazione, può fare un danno. È la polemica a cui abbiamo assistito. Questo libro ci richiama l'essenzialità. Riflettendo sull'essenzialità, dobbiamo riflettere anche sulla quantità di informazione, sulla ripetitività di informazione che noi produciamo. Riguardo più la televisione, per la verità, che la carta stampata, ma anche la carta stampata. Francesco Rigatelli, andiamo a Milano. Milano. Ovviamente parlare per terzo, dopo tanto autorevoli commentatori, è una fregatura, perché mi hanno rubato tutto quello che volevo dire. Posso aggiungere che sono una trentina di sezioni, oltre 900 pagine, quindi è veramente un tomo che immagino possa, come diceva la direttrice, essere usato anche dai ragazzi in occasione di concorsi universitari. Io personalmente lo uso perché riordina un po' le idee sull'anno di cui si discute e permette di fare un bellissimo gioco, ovvero contenere in dei limiti di tempo che hanno un inizio e una fine tutti i fatti in cui siamo immersi, in cui anche noi professionisti navighiamo un po' disordinatamente. Quindi è molto utile, interessante. Tra l'altro, secondo me, hanno anche azzeccato il personaggio a cui affidare il commento di apertura, ovvero il ministro dell'interno Minniti, che parla di immigrazione, che come sappiamo è un tema estremamente di attualità e che lo sarà anche nei futuri mesi. Alessia, vuole aggiungere qualcosa a queste analisi che sono arrivate da varie parti d'Italia e anche da Roma? Sì, appunto lo ringrazio perché ha ricordato il contributo del ministro Minniti, poi c'è un contributo anche di Malagò per lo sport, e quindi ci sono anche dei nomi autorevoli che scrivono sul Libro dei Fatti. Ci vediamo st'altranno, che cosa devo dire, con la ventottesima edizione sicuramente. Diciamo intanto che il Libro dei Fatti è un'opera corale, perché sono in tanti a lavorare per questo libro. Dico bene, Alessia? Assolutamente, c'è tutta l'agenzia che lavora per questo libro, perché le notizie sono le notizie dell'agenzia e per questo sono le notizie pure, diciamo, sono le notizie senza commento. Per questo è un libro così scarno, dove esiste, è un'enciclopedia della notizia, lo possiamo chiamare così il Libro dei Fatti. C'è solo questo, ci sono i fatti e basta. E in questo ovviamente tutti i giornalisti, tutta la redazione della DN Cronos, il settore della salute, il settore della sostenibilità, il settore del sito, sono tutti impegnati nel dare il loro contributo al Libro dei Fatti. Come si diceva da qualche parte, i fatti separati dalle opinioni. Altri libri, altri autori. Vediamo.